L'ispezione è iniziata questa mattina ed è in corso. Il primo pensiero è un pensiero di condoglianza alla famiglia da parte nostra. Sono tragedie. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova conferma l'avvio dell'ispezione ordinata nelle scorse ore dal presidente Luca Zaia per far luce sulla morte del piccolo Giacomo Lionello, il bimbo di 5 anni di Porto Viro, deceduto lunedì mattina dopo essere stato visitato in tre diversi ospedali della regione. Anche a Chioggia, ispettori al lavoro, mentre l'usla polesana non rilascia dichiarazioni per quanto riguarda Adria, la prima struttura a cui si erano rivolti i genitori del piccolo, arrivato in ospedale con vomito e mal di pancia e dimesso con la diagnosi di gastroenterite. Il bimbo poi era stato portato dalla famiglia a Chioggia e da qui, dopo tre arresti cardiaci, il trasferimento a Padova, dove è arrivato già in condizioni critiche e dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle scorse ore ha disposto l'invio di un'ispezione ministeriale negli ospedali. Secondo i familiari, il bambino non soffriva di particolari patologie. Cosa abbia provocato il decesso del piccolo Giacomo lo chiarirà l'autopsia disposta dal pubblico ministero Marco Peraro. L'incarico è stato affidato al medico legale trevigiano Sindy Visentin. La procura di Padova ha aperto un fascicolo d'inchiesta al momento senza indagati per formulare le accuse di reato. Si attenderanno gli esiti dell'esame autoptico che verrà svolto domani pomeriggio.